L'edizione 2017 del forum del Comitato Interregionale del Centro dei Gioveni di Confindustria, per la prima volta in programma in Abruzzo e a Pescara, è stato diviso in quattro macro aree, legalità, uomo, manifattura ed innovazione, da qui il nome dell'evento Lumi nell'era del Cross Industry. Oggi la Cross Industry va intesa come un'azienda che oggi parte con un obiettivo, un modello di business, ma a distanza veramente a volte di sei mesi o un anno può modificare completamente il suo modello. E quindi oggi abbiamo in qualche maniera voluto indagare quelle che sono la definizione di questi confini in base a quattro tematiche importanti. I Lumi, un pochino rifacendosi un po' al concetto dell'illuminismo e quindi i Lumi che illuminavano la ragione. La parola d'ordine è reinventare i modelli di business una necessità ineludibile per le imprese ai tempi dell'economia globalizzata. Cambiano infatti i confini tradizionali dell'imprenditoria in funzione di un'idea di innovazione che riguarda ogni area del mondo aziendale e genera un nuovo modello operativo che offre grandi opportunità di crescita. L'importante è non sottovalutare il ruolo dell'uomo al centro dell'azienda. L'uomo ritorna al centro e proprio grazie all'innovazione si dà maggior valore al lavoro dell'uomo piuttosto che a quello delle macchine. Le macchine serve innovarle, serve rinnovarle, portare al centro di innovazione, ma l'uomo deve guidare queste innovazioni, quindi l'uomo ritorna presente, protagonista all'interno delle nostre aziende.